Lettura di Storia delle Repubbliche Italiane del Medioevo di Jean-Charles Leonard Simon de Sismondy Tomo I, capitolo I Mescolanza degli italiani coi popoli settentrionali dal regno di Odoacre fino a quello di Ottone il Grande In sul declinare del V secolo, Romolo Augustolo, imperatore d'Occidente, figliuolo d'un patrizio che di quei tempi era forse il solo generale nato romano, fu deposto dai suoi soldati, che gli sostituirono Odoacre, uno dei capitani delle guardie imperiali, d'origine Erulo Oscita Questo usurpatore soppresse per modestia il nome d'impero occidentale e si accontentò del titolo di re d'Italia Allora la sovranità di Roma fu per la prima volta trasferita alle nazioni settentrionali Un signore italiano, Berengario, Marchese di Vrea, fu cinque secoli dopo coronato dai suoi compatrioti re d'Italia E poco dopo dai medesimi deposto Allora i grandi feudatari chiamarono dalla Sossogna Ottone re d'Allemagna E da lui volontariamente si sottomisero, aggiungendo alla dignità di re di Lombardia il titolo di imperatore Che gli occidentali avevano fatto rivivere due secoli prima in favore di Carlo Magno E lasciato poi cadere in dimenticanza E per tal modo, con una strana rivoluzione, della loro patria indipendente ne formarono una provincia dell'impero germanico Quantunque assai lontana dalla sede del governo Queste due rivoluzioni, che sostituirono il nome di monarchia a quello di impero ed il nome di impero a quello di monarchia Determinano la durata delle sventure che travagliarono l'Italia Avanti che potesse riprendere il carattere e l'energia di nazione libera Tali rivoluzioni, che presentano alcuni rapporti di circostanze generali, si rassomigliarono assai più negli effetti La prima, che sembrava aver posto il colmo agli ignominia di Roma Fece poco a poco repullulare tra gli inviliti italiani le virtù ed il coraggio che aveva distrutti il dispotismo dei cesari L'ultima, che si credette dover porre l'Italia nella vergognosa dipendenza dei tedeschi e i suoi antichi nemici Fu quella invece che ridestò negli italiani il desiderio della libertà E fu la cagione immediata del risorgimento dei governi repubblicani Incerte ugualmente ed oscure sono le storie da Augustolo e di Odoacre Di Begarengario e di Ottone E dense tenebre ricoprono quei tempi di profonda ignoranza Grandissima non pertanto è la diversità che passa tra gli italiani del V e quelli del X secolo Nella prima epoca troviamo la nazione caduta in questo estremo avvilimento Cui il più insultante dispotismo possa ridurre un popolo civilizzato Quando nella seconda andava ripigliando quell'energia, quell'indipendenza di carattere Che una lunga serie di traversie può dare ad un popolo bavaro Sotto gli ultimi imperatori la nobiltà di Roma più capace non era di grandi e generose passioni Resa straniera alle cariche politiche e militari Era si spento nel cuore dei patrizi perfino il desiderio della gloria Ed avrebbero creduto di avvilirsi col servire allo Stato Se la storia ricorda ancora di quando in quando i nomi delle antiche e generose famiglie Non è che per parlare delle loro ricchezze e delle loro sventure Poteva la storia raccontare quanti preziosi arredi avevano perso i barbari nei loro palazzi E di quanti migliaia di schiavi spogliati i loro poderi Ma niente dir poteva di uomini affatto incapaci di grandi azioni I quali senza talenti e senza virtù passavano confusi con la plebe a bietta Non lasciando alcuna traccia di sé medesimi Il rimanente della nazione se fosse stato possibile ancora più vile dei patrizi Si nasconde affatto alle nostre ricerche Osservando le armate composte soltanto di stranieri e le campagne popolate di schiavi Si domanda in vano alla storia ove erano allora gli italiani Quando leggiamo gli annali degli ultimi regni dell'impero d'occidente Quasi non ci avvediamo che trattasi ancora di un vastissimo stato Le armate ridotte ad un pugno di uomini Il tesoro incapace di sostenere le più piccole spese L'impero mal difendersi dal più ignobile aggressore Il popolo ed il senato permettere che un capitano delle guardie Diga e tolga a sua voglia il diadema a persone straniere Ni un ordine della nazione aveva un solo uomo capace di prendere coraggiosamente le eredini del governo Tutto ci farebbe credere che trattisi di un ignobile feudo Anziché della nazione erede del nome e della grandezza di Roma Ma allorché la corona d'Italia passò ad Ottone il Grande Molti nobili fieri, indipendenti e bellicosi cercavano con entusiasmo la gloria e il potere Ne avrebbero senza indignazione tollerato che persone straniere alle loro classe Fossero i giudici, i generali, i ministri del re, i difensori della patria I minori vassalli non lasciavano, benché meno potenti Dimostrarsi al par dei primi energici ed audaci Non potendo aspirare alla signoria, combattevano per l'indipendenza Fortificavano le loro rocche, addestravano all'armi i loro paesani E volevano intervenire alle assemblee nazionali Rifiutando di sottomettersi alle leggi e ai tributi Cui non avessero dato la sanzione col loro preventivo assenso D'altra parte i borghigiani, resi forti dalla loro riunione nelle città Riclamavano la conservazione delle leggi e delle costumanze municipali E chiedevano di partecipare a quella libertà che non doveva essere l'appannaggio esclusivo Di una casta privilegiata, ma appartenere a tutti gli uomini Che sanno rendersene degni col coraggio e con le virtù E per tal modo l'intera nazione, animata dal medesimo principio di vita S'andava agitando per ogni lato e facendo esperienza delle proprie forze E quando ancora non aveva trovato l'arte di valersene in sua difesa E per la propria felicità, pronunciava oscuramente Le grandi cose cui mostrerebbe sì un giorno capace Così notabile cambiamento nel carattere di un'intera nazione Basta a rendere degno della più grande attenzione Questo primo periodo dell'età di mezzo Una nazione ringiovenita dopo esser giunta all'estremo grado di decrepitezza È un fenomeno singolare che altrove la storia non ci presenta Ma i cinque secoli nel corso dei quali si rifuse il genere umano Sono coperti da così dense tenebre che le più accurate indagini Non dissiperanno già mai interamente Ver un monumento, ver uno storico abbastanza esatto Ci rimane di quei tempi in cui tre popolazioni settentrionali I Goti, i Lombardi, i Franchi Si incorporarono successivamente agli italiani resi i loro soggetti Troppo erano avviliti gli ultimi avanzi della popolazione civilizzata Troppo ignoranti i conquistatori per iscrivere la storia dei loro tempi Le poche cronache contemporanee ne conservano bensì i nomi dei re Le guerre che sostennero e le rivoluzioni che frequentemente li balzavano dal trono Ma non ci danno veruna notizia dei popoli Onde giudicarsi possa dei costumi e dello sviluppo delle sue facoltà Altronde la storia dei principi ha fatto straniera al nostro scopo Quando non ci fa conoscere le cagioni che diedero origine alle nostre repubbliche E per tal modo forzati di rinunciare al pensiero di dare una soddisfacente storia di questi tempi d'oscurità Ci limiteremo ad indicare sommariamente il modo con cui i settentrionali Frammischiarono si alle nazioni del mezzodì Per richiamare poi separatamente ad esame alcuni oggetti Che in particolar modo richiedono la nostra attenzione Cioè l'origine e i progressi e lo scioglimento del sistema feudale La storia delle città e della chiesa di Roma dopo la caduta dell'impero d'occidente La storia delle città greche nel mezzogiorno d'Italia Quella delle città marittime E finalmente quella della formazione di tutti i municipi che diventarono governi liberi Così procedendo potremo spargere qualche lume sui primi secoli dell'età di mezzo Senza obbligarci ad una cronologica nomenclatura di nomi barbari Che il lettore può facilmente trovare in altre opere Allorché fu distrutto l'impero d'occidente La civilizzazione si ridusse entro i limiti dell'impero d'oriente I sovrani di Costantinopoli contavano ancora tra le loro province La Grecia, la Tracia, parte dell'Illirico, l'Asia Minore, la Siria e l'Egitto Ma in quest'epoca l'impero occidentale fu tutto diviso in brani tra le nazioni del settentrione I franchi stabilironi nelle Gallie, gli anglosassoni nella Bretagna I Visigoti nella Spagna, nell'Africa i Vandali Ed Odoacre ebbe il Regno d'Italia Sotto il dominio di Odoacre non vennero in Italia popolazioni nuove E soltanto vi si fissarono più stabilmente quei mercenari stranieri Che da molti anni formavano essi solo l'armata dell'impero Questi mercenari, sotto il comando ad un loro compatriota Si erogarono tutti i poteri dell'impero Siccome coloro che ne formavano tutta la forza Diedero al loro capo il titolo di re Ed al nuovo re domandarono ed ottennero una distribuzione di terreni Per cui la terza parte delle campagne d'Italia passò di proprietà ai barbari Il governo dei mercenari ed il Regno di Odoacre durarono 17 anni Fu questo il passaggio del governo romano al governo dei barbari Odoacre si caricò agli occhi dei popoli dell'odiosa memoria Ad aver distrutto il nome ancora riverito dell'impero Ed avvezzò gli italiani a risguardare in appresso come loro monarca Uno dei conquistatori settentrionali Che fino allora avevano considerati come nemici o come soldati mercenari Quattordici anni dopo che Odoacre fu fatto re Teodorico, re degli Ostrogoti, entrò in Italia Consentendolo Zanone, imperatore d'Oriente Ed intraprese la conquista del Regno di Odoacre Che terminò con la presa di Ravenna l'anno 493 Teodorico, che in gioventù era stato più anni alla corte di Costantinopoli Univa alle virtù dei popoli barbari Il sapere delle nazioni civilizzate Egli intraprese di riunire e rendere felici le due nazioni a lui soggette Chiamò gli italiani agli imperi agni civili I goti alla milizia E facendo rispettare l'Italia dagli altri popoli barbari Fu il primo che ispirasse alcun poco di confidenza Nelle proprie forze agli avviliti romani Che probabilmente incominciarono dopo lo regno di Teodorico Ad avere in qualche pregio le antiche virtù Ma se l'unione con i popoli settentrionali Era utile al rigeneramento dei latini Altrettanto l'esempio di questi Poteva snervare il valore dei barbari Nella stessa guisa Quando si mischiano assieme due fluidi di diversa temperatura L'uno acquista il calore con pregiudizio dell'altro Perciò i primi conquistatori dell'Italia Perdettero in poco tempo il natio valore La dominazione gota in Italia durò soltanto 64 anni E gli ultimi 18 anni della loro monarchia furono impiegati in una sanguinosa guerra contro i greci Durante la quale Belisario, poi Narsete, conquistarono due volte l'Italia E distrussero il fiore di quella nazione che 50 anni prima faceva tremare i greci a Costantinopoli La storia degli Ostrogoti forma parte di quella del Basso Impero Ma non può riguardarsi come parte di quella che noi scriviamo Se non in quanto i Goti furono i primi popoli barbari Che si incorporarono con gli italiani Le due nazioni soggette e gli stessi padroni si unirono strettamente L'origine settentrionale dei Goti fu dai latini dimenticata E da quell'epoca in poi non furono che un solo popolo Forse quest'unione non avrebbe avuto perfetta consistenza sotto la greca dominazione Ma questi non rimasero a lungo tempo padroni dell'Italia Narsete, che l'aveva conquistata e saviamente governata a 16 anni Fu richiamato a Costantinopoli dalla gelosa diffidenza dell'imperatrice Il vecchio generale, abbandonando il suo governo Affidava la cura di vendicarlo ad Alboino, re dei Lombardi Che segretamente invitava a scendere in Italia Tra le nazioni germaniche, quella dei Lombardi aveva nome d'essere la più brava La più fiera, la più libera I Lombardi credevano usciti dalla Scandinavia E da oltre 40 anni abitavano la Pannonia Che cedettero agli unni i loro alleati Quando essi, rinforzati da un considerabile corpo di sassoni Si avviarono alla volta dell'Italia Malgrado la loro bravura ed il loro numero I Lombardi non ottennero di occupare tutta l'Italia L'immatura morte di Alboino dopo il breve regno di tre anni e mezzo E l'anarchia che ne fu la conseguenza Arrestarono le loro conquiste Un popolo indipendente, fatto così forte nella laguna di Venezia Si sottrasse alla schiavitù lombarda Roma, col suo territorio, che allora cominciò ad avere il nome di Ducato Si tenne fedele agli imperatori d'Oriente sotto la protezione dei papi L'esarcato di Ravenna, nonché la Pentapoli Che formava parte della Romagna E le città marittime dell'Italia meridionale Furono dalle armi greche difese contro i Lombardi Finalmente un principe Lombardo Resosi quasi affatto indipendente dai re della sua nazione Era stabilito nel centro delle province Onde è oggi formato il regno di Napoli E vi regnava col titolo di Duca di Benevento Intanto Alboino ed i suoi successori avevano stabilito in Pavia La sede del regno che stendevansi dalle Alpi fin presso Roma In tal maniera la conquista dei Lombardi fu per certi rispetti Cagione del risorgimento delle nazioni italiane Principati indipendenti, comuni, repubbliche S'andavano agitando per ogni verso E questa contrada da tanto tempo addormentata Incominciò a risvegliarsi Poiché nel susseguente capitolo avremmo esaminata L'interna forma del regno Longobardo di Pavia Procederemo separatamente E partendo sempre dalla stessa epoca A parlare del Ducato e della Repubblica di Roma Del Principato di Benevento Delle Repubbliche d'Amalfi Di Napoli, di Gaeta, di Venezia E finalmente di tutte le popolazioni Che si videro allora acquistare un'esistenza politica La monarchia dei Lombardi durò abbastanza gloriosa 206 anni Nel quale spazio di tempo ebbe 21 re E tra questi molti egregie ed illustri principi Come ne fanno prova le savissime leggi che diedero al loro regno Ma i Lombardi non si unirono agli italiani Come fecero i goti i loro predecessori Entrando in Italia avevano più crudelmente abusato della vittoria Di quel che fecero i goti Per cui le due nazioni rimasero divise da un implacabile odio Anche lungo tempo dopo la caduta della monarchia di Pavia Ascoltiamo il vescovo di Cremona Liut Prando Di origine Longobarda Noi altri Lombardi Egli dice Siccome i Sassoni, i Franchi, i Lorenesi, i Bavari, gli Svevi e i Di Borgognoni Dispreziamo di sorte il nome romano Che in stato di collera non sappiamo proferire a maggiore ingiuria contro i nostri nemici Che chiamandoli romani Già che in questo solo nome comprendiamo tutto quanto vi può essere di ignobile Di timido, davaro, di lussurioso, di menzognero E per dirlo in una parola sola Tutti i vizi I romani, d'altro canto Non è da dubitarsi che non avessero maggiore antipatia per i loro oppressori Ma la razza dei Lombardi prosperava in Italia Mentre quella dei romani si andava graduamente estinguendo I corrotti ed effemminati costumi degli ultimi li tenevano nel celibato Mentre l'attività e il desiderio di perpetuare nei loro discendenti col proprio nome La gloria che erano si conquistata Consigliava i Lombardi al matrimonio I pochi italiani ancora benestantemente ricchi Abbandonavano un paese che ogni giorno diventava per loro sempre più straniero E si riparavano nel Ducato Romano Nell'Esarcato, nella Calabria Greca O nelle lagune veneziane Dove trovavano con cittadini nemici dei loro oppressori L'indipendenza di queste province Che i greci abbandonavano quasi totalmente a sé medesime La loro piccolezza I continui pericoli cui trovansi esposte Ridestavano nel cuore degli abitanti L'amor di patria I popoli stranieri Esposti alla corruzione Ne furono la vittima prima dei popoli civilizzati Menché i Lombardi conservassero Fino alla dissoluzione della loro monarchia La costituzione libera che si erano data Benché il codice delle loro leggi fosse miglior assai di tutti quelli dei popoli barbari Benché la forma irregolare delle loro frontiere accrescesse proporzionatamente all'estensione dello Stato I punti di contatto con i loro nemici E che questa stessa irregolarità Chiamandoli a più frequenti in guerra Dovesse più a lungo tempo tenere vive le abitudini militari Pure l'influenza del clima La fecondità delle terre La servitù dei popoli della campagna Snervarono anche i Longobardi Nel tempo dei loro ultimi re Non avevano più il valore dei franchi o dei tedeschi Da lungo tempo non avevano guerreggiato Che con gli italiani e con i greci E quantunque superiore a tutti Avevano pure adottato il loro modo di combattere La lunga inimicizia dei Longobardi con i greci e con i romani Cagionò la caduta della loro monarchia Liutbrando aveva conquistato l'esarcato di Ravenna e la Pentapoli Ma i di lui successori Astolfo e Desiderio Volendo occupare l'inoltre il ducato di Roma Costrinsero i papi a porsi sotto la protezione dei principi francesi L'anno 755 Pipino obbligò Astolfo a rendere O piuttosto a promettere al papa La possessione dell'esarcato E delle province conquistate a danno dei greci Del 774 Carlo Magno Chiamato in Italia da Papa Adriano Conquistò la Lombardia Fece prigioniero desiderio E si pose in capo la corona dei Lombardi Gli italiani risguardarono tale conquista Come una nuova invasione barbarica Se non che i talenti e le virtù di Carlo Magno Compensarono in alcun modo Il brutale impedo dei suoi sudditi Questo monarca soggettò quasi tutta l'Italia alla sua dominazione I Lombardi lo riconobbero loro re E con il nome di Patrizio Ebbe pure la signoria dell'esarcato e del ducato romano Ed infine anche a Rigiso, duca di Benevento Fu forzato di riconoscere la sua supremazia E di rendergli omaggio All'Italia così riunita Diede uno dei suoi figlioli per re Ma il giorno di Natale dell'Ottocento Ricevette egli medesimo per acclamazione Dai grandi e dal popolo di Roma Il titolo di imperatore E per tal modo repristinò egli l'impero occidentale Che si trovò composto di tutta l'Allemagna Della Francia e dell'Italia La quale, benché dichiarata regno di suo figlio Non fu, rigorosamente parlando Che è una provincia del nuovo impero La famiglia dei Carolingi Occupò il trono d'Italia dal 774 In cui la conquistò Fino all'espulsione di Carlo il Grosso Accaduta l'anno 888 Carlo Magno Uno dei più grandi caratteri dei mezzi tempi Non tardò ad acquistare sui suoi coetanei L'influenza di un uomo straniero al suo secolo E come vebbero prima di lui Alcuni uomini straordinari Che con l'energia di un carattere mezzo barbaro Signoreggiarono un popolo civilizzato Così un uomo che ne aveva prevenuto L'incivilimento ebbe intero dominio sui barbari Per la forza del suo spirito Dei suoi lumi Dei suoi talenti Carlo Magno Accoppiando le qualità del legislatore Quelle del guerriero Il genio creatore Alla prudente vigilanza Che conserva e mantiene gli imperi Si trasse dietro Sulla strada della civilizzazione E le nazioni alemanne E finché visse Le rese capaci di giganteschi passi Con un solo legame Riunì i barbari ed i romani Sotto un solo impero I vincitori ed i vinti Finalmente Egli pose i fondamenti Di un nuovo ordine di cose Per l'Europa Di un sistema Che appoggiavasi essenzialmente Sopra le virtù di un eroe E sopra il rispetto E l'ammirazione Che ispiravano le sue virtù Non si creda però Malgrado lo splendore Di tante conquiste Che il regno di Carlo Magno Contribuisse Alla felicità degli uomini Carlo Magno è colpevole In faccia all'umanità Del regno Dei suoi successori Dei più malvagi secoli Della storia dell'universo Il nono ed il decimo Delle guerre civili Dei carlovingi Delle insultanti Invasioni dei barbari Della universale debolezza Della totale Sovversione dell'ordine E del ritorno D'una barbarie Più grande assai Di quella del secolo ottavo Nel nono e nel decimo Carlo Magno fondò Una monarchia quasi universale Ma non ha potuto Come i romani Consolidarla Con le successive conquiste Di sette secoli E temprare saldamente Le catene Che attaccavano L'un l'altra Presso le altre nazioni Vinte alla vincitrice Ed identificarle Di maniera Le una con le altre Che venissero a formare Un solo corpo I sudditi di Carlo Magno Sottomessi Soltanto per il corso D'una vita Erano piuttosto attaccati Alla sua persona Che alla sua nazione La feroce indipendenza Di quei popoli barbari Si era prostrata Dinanzi a lui Durante la loro sommissione Avevano perduto Lo spirito nazionale La forma proprio Del loro governo E tutto quanto Poteva porli In situazione Di mantenersi O di difendersi Ma non aveva Nemmeno preso Ad amare Una monarchia Affatto nuova E l'idea del diritto E della giustizia Era affatto straniera A così violente istituzioni In vano L'autorità sovrana Determinava tra i principi Le successioni E le divisioni Questa autorità Mancante Della sanzione Dei secoli Cedeva a fronte Degli interessi particolari E dava luogo Alle contese Dei figli Di Luigi il Buono Gli ordini civili E militari Non erano rinforzati Davvero Uno spirito nazionale Davvero Un'affezione Dei popoli Per un governo Che aveva sovvertiti Tanti altri governi E di qui Ebbero origine Le invasioni Dei normanni E dei saraceni Di qui La debolezza Di un vasto impero Popolato da valorosi soldati E non pertanto Incapace Di far fronte Ai più spregevoli nemici Vero è Che i successori Di Carlo Magno Furono tutti Uomini senza talenti Ma tale è pure L'ordinario andamento Delle cose E non era da supporsi Che il conquistatore Dell'Europa Il fondatore D'una nuova dinastia Dopo un regno Glorioso Di 40 anni Avesse inoltre Un successore Erede Dei suoi talenti E delle sue virtù Se ciò fosse accaduto Se due o tre uomini Come Carlo Magno Avessero successivamente Occupato il trono Dei franchi La monarchia universale Sarebbe Si probabilmente Mantenuta Ma l'Europa Avrebbe perdute Le prerogative Che la distinguono Sarebbe Si forse Più presto Civilizzata Ma sarebbe Ancora rimasta In seguito Stazionaria Come la Cina Senza energia Senza forza Senza genio E senza virtù Effettivamente Carlo Magno Figurò solo Sulla scena Del suo secolo I suoi paladini Non esistono Che nei romanzi Tra i suoi contemporanei E nella sua Susseguente generazione Non sorse Verù Un personaggio Distinto Il secolo Che lo precedete Non mancò Di grandi uomini E tutti i popoli Soggiogati da Carlo Ebbero Come i lombardi Capi meritevoli Di essere registrati Nella storia Almeno prima di lui La metà Della specie umana Non era subordinata Da un solo capo Né mossa Dal capriccio Di un solo uomo Morì Carlo L'anno 814 E la sua famiglia Non conservò Che 73 anni La monarchia Da lui fondata Dopo alcuni regni Vergognosi E miserabili Carlo il Grosso L'ultimo Dei Carlo Vingi Fu deposto In novembre Dell'887 E morì Due mesi appresso La storia Dei Carlo Vingi Non appartiene All'Italia Ma a tutta l'Europa E noi abbiamo La fortuna Di poterci dispensare Dal tenerle Dietro in mezzo Alle scandalose Guerre Dei figliuoli Contro il padre Dei fratelli Contro i fratrelli Che ne formano La principale orditura Durante questo periodo Di tempo L'Italia Fu alquanto Meno infelice Degli altri regni Subordinati Ai successori Di Carlo Perché governata 26 anni Da Ludovico II Principe virtuoso Né senza talenti Né privo Di bravura E fu appunto Specialmente Sotto di lui Il regno Che l'esempio Del valore francese Fece rinascere L'amore delle armi E la reputazione Della milizia italiana Le campagne D'Italia Incominciarono Allora A ripopolarsi E le città Desolate Dalle precedenti Invasioni Recuperarono I loro abitanti Sotto il debole governo Dei Carlovingi Il patto sociale Perdette ogni forza I re Nelle guerre di famiglia Furono obbligati Di comperare I soccorsi Dei loro sudditi Con l'accordar privilegi Che resero nulla L'autorità reale Occupati Nella difesa Degli stati Contro i nemici stranieri O resi deboli Dalle loro guerre civili Eransi lasciati Pregiudicare In tutte le loro Prerogative Sicché appena Nei vasti loro stati Rimaneva qualche città O castello Che non avesse Un altro padrone Le province Appartenevano Ai duchi O ai marchesi Le metropoli Ai vescovi Le altre città Ai conti Il re era Senza autorità Quantunque I suoi diritti Non fossero mai Passato in mano Dei popoli Gli avvenimenti Chebbero luogo Dopo la deposizione Di Carlo il grosso Vogliono essere Più attentamente Considerati In quanto Che si avvicinano All'origine Delle repubbliche Appartengono inoltre Più strettamente Alla nazione italiana Che si trovò Allora di nuovo Governata Da un monarca Italiano Le rivoluzioni Del trono Accadute Nel periodo Di 63 anni Dall'espulsione Dei Carlo Vingi Fino all'incoronazione Dottone di Sassonia Posero in movimento Fissarono Il carattere nazionale E svilupparono Quella tendenza Alla libertà Repubblicana Che ben tosto Vedremo Prender piede Nelle città I Lombardi Avevano diviso La loro monarchia In 30 principali feudi Col titolo Di Ducato Dei quali Dovremmo parlare Con maggiore estensione Nel seguente capitolo Ove tratteremo Del sistema feudale Sotto la dinastia Dei Carlo Vingi Furono i feudi Ridotti a minor numero Non già per quanto Sembra in forza Di alcuna legge Ma col riunire Più feudi Sotto un solo padrone Oppure dividendo Un ducato In molte contee Perciò Allorché fu deposto Carlo il Grosso Non erano In Italia Che cinque o sei Grandi signori A portata Di comandare Alla nazione E di disputarsi Il trono I grandi feudi Di cui erano proprietari Avevano quasi tutti Indifferentemente Il titolo Di Ducato O di Marchesato Il vocabolo Di Mart Indicava presso I franchi E di tedeschi I confini Degli stati Ed infatti I soli Grandi ducati Conservati Erano posti Alle frontiere Dell'Italia Affinché Il loro signore Potesse Senza essere Soccorso dal monarca Difendere il regno Dalle straniere invasioni Il più potente Dei grandi feudi D'Italia Era quello Di Benevento Fondato da Zenone L'anno 568 E formato Di quasi Tutte le province Che oggi Appartengono Al regno Di Napoli Nel quarto capitolo Tracciando La storia Delle repubbliche Dell'Italia meridionale Che furono Sempre in guerra Con i duchi Di Benevento Dovremmo Con qualche accuratezza Tenere dietro Alla loro dinastia Nel nono secolo Era sì Questo ducato Diviso In tre principati Indipendenti Benevento Salerno E Capua Che poi Si indebolirono Reciprocamente Con ostinata guerra È cosa notabile Che quei signori Non facessero mai Alcun tentativo Per ottenere La corona d'Italia Uguale moderazione Manifestò Ad Alberto Conte di Lucca E Marchese di Toscana Quel signore Di Fermo Di Fermo E di Camerino I quali Governavano Le due piccole province Che ancora adesso Chiamansi Le Marche E che altra volta Erano i confini Che i Lombardi Dovevano difendere Dalle aggressioni Dei Greci Il Marchese di Ivrea Infatti Per cui erano Vientrati Tutti i popoli Barbari Nelle precedenti Invasioni Berengario Discendeva Dall'antica Famiglia Dei Duchi Lombardi Del Friuli E poiché Carlo Magno Simpadoni Dell'Italia Questa famiglia Aveva contratto Partendo Con la casa Imperiale Perengario Era figliuolo Del Duca Eberardo E di Gisla Sua consorte Figliuola Di Luigi Il Buono D'altra parte Guido Duca di Spoleto Aveva aggiunto Ai suoi domini Le Marche Meno considerabili Di Fermo E Camerino E Guido I Suoavo Approfittando Delle guerre Civili Onde era Travagliato Lo stato Di Benevento Ne aveva Acquistata Gran parte O piuttosto Erasene Impadronito A tradimento Guido Da tale conquista Reso uno Dei più potenti Principi Era originario Francese Ed alleato Della real Casa Dei Carlo Vingi Come Che non Se ne Conosca Il modo Dopo aver Assoggettato La chiesa Romana A molti Tributi Era Si riconciliato Ed era Stato Adottato Da Papa Stefano V Oltre La rivalità Di potenza Berengario E Guido Avevano Altro Particolar Motivo Di vicendevole Odio Guido Pochi anni Prima Era stato Per ordine Di Carlo Il Grosso Messo Al bando Dell'impero E Berengario Aveva accettato Il non agevole Incarico Di muovergli Guerra E spogliarlo Dei suoi stati Questi due Principi Pari In potenza Aspirarono Al regno D'Italia Tosto che L'impero Di Carlo Magno S'andava Dividendo Fra diversi Padroni In perciò Che Lo stesso Anno Che Arnolfo Bastardo Della razza Carlovingia Impandronivasi Della Germania Luigi Figliuolo Di Bosone Faceva lo stesso Del regno Di Arles Rodolfo Figlio di Corrado Dell'Alta Borgogna Ed Eude Conte di Parigi Della Francia Occidentale Siccome tutti i principi D'Europa Risguardavansi Allora Quali principi Francesi Tutte le guerre Prodotte Da questo smembramento Assunsero Il carattere Di guerre civili Guerre promosse Dalla sola Ambizione Dei grandi Il cui popolo Non prende Veruno Interesse Di qui Ebbe origine In mezzo Ad una nazione Valorosa La strana Debolezza Della monarchia E quella Dissoluzione Sociale Che doveva Alla fine Ridurre Tutte le città A provvedere Alla propria Difesa Ed a governarsi Da loro Intanto Berengario E Guido Andavano Sollecitando L'Assemblea Degli Stati O piuttosto I Vescovi D'Italia A dar loro La corona Questi due Principi A vicenda Vincitori E vinti Comperarono Allorché Ebbe luogo Qualche rivoluzione I voti Degli elettori Con novelle Concessioni E si videro Spogliare La corona Di tutti I suoi privilegi Senza aver Perciò Ottenuto Il sicuro Appoggio Dei loro Partigiani I feudatari Abbracciavano Sempre la parte Del vinto Perché il vincitore Richiedeva Ubbidienza Lo che pareva Loro Cosa dura Ed obrobriosa In 60 anni Che durarono Le guerre civili Berengario Regnò 36 anni Prima con Il titolo Di re d'Italia E gli ultimi Nuove Con quello Di imperatore Il quale Dopo aver domati I principi Della casa di Spoleto Suoi primari rivali Rivolse le armi Contro gli altri Competitori Che gli suscitarono I suoi sudditi Luigi di Prodenza E Rodolfo Di Borgogna Onde La lotta Che sostenere Dovette Per il trono Durò Quasi Quanto Il suo regno In perciò che Osserva uno storico Quasi contemporaneo Gli italiani Vogliono avere Sempre due padroni Onde Contenere l'uno Col terrore Dell'altro Il regno Di Berengario Reso celebre Dalle guerre civili Dell'Italia Fu pure L'epoca Sventurata Dell'invasione Dei popoli nomadi Del nord E del mezzogiorno Gli ungari E di saraceni Che per il corso Di 50 anni Continuarono Le loro devastazioni Cambiando i costumi Degli italiani Con l'obbligarli Ad adottare Un nuovo sistema Di difesa La debolezza Di Luigi Figliuolo D'Arnolfo Re di Germania Aprì le porte Della Germania E dell'Italia Agli ungari Nazione barbara Ancor pagana Che Uscita come gli unni Dai deserti Della scizia Ne aveva seguito Le tracce Per la rovina Degli occidentali Spopolando le province E forzando i greci I bulgari I tedeschi A redimersi Dalle loro devastazioni Con vergognosi Tributi Questi feroci popoli Furono principale Cagione Che si prestasse Fede All'opinione Dell'avvicinamento Alla fine del mondo Ed i teologi Discussero gravemente La questione Se questi popoli Erano coloro Che la scrittura Indicava Con i nomi Di Gog E Magog Pareva che Questi barbari Si compiacessero Di versare Il sangue umano E non avessero Le loro eruzioni Altro oggetto Che quello Di distruggere Scorsero l'Italia E la Germania Fino alle loro estremità Incendiando le città Aperte E lasciando ovunque Orribili tracce Del loro passaggio Ma quentunque L'Europa Rimase quasi affatto Abbandonata Al loro furore Non fecero Veruna Stabile conquista Quell'armata Che aveva portato La desolazione Attraverso Dell'Italia Fino a Capua Ed attraverso L'Allemagna Fino a San Gallo Dopo essersi Dissetata Di sangue Si affrettava Senza che Nei uno La sforzasse Di rinselvarsi Nelle foreste Della Pannonia Trasportandovi Le ricche spoglie Che aveva raccolte Quando accadde La prima invasione Degli Ungari L'anno 900 Berengario Era perfino Ignoto Il nome Di questo popolo E che lo vedeva Avanzarsi Fin sotto Le mura Di pavia Dopo aver rovinato La marca Trevigiana Riuniva Frettolosamente Tutti i vassalli Della corona E formava Un'armata Tre volte Più numerosa Di quella Dei barbari Contro Dei quali Si mosse Gli Ungari Spaventati E non Conoscendo ancora Il paese Ritiraronsi Fino al di là Del Brenta Facendo Nello stesso tempo Offerte di pace E chiedendo La permissione Di ritornare Senza ostacoli Ai loro focolari Non portando Coloro Le prede Che avevano fatte Ma Berengario Lusingato Di poter Li castigare In modo Che più Non pensassero Ad invadere I suoi stati Li forzò Di venire A battaglia Egli Non aveva Abbastanza calcolata L'energia Che suol dare La disperazione Né le segrete Discordie Che indebolivano Il suo esercito E fu pienamente Disfatto Gli Ungari Vittoriosi Rientrarono Nelle province Interne Dell'Italia Che corsero Senza incontrare Esistenza Perciò Che la disfatta Di Berengario Avesse scoraggiata Di maniera Tutta l'Italia Che vero un capitano Non ardiva Porsi a fronte Di così Feroci nemici Prima di quest'epoca I Saraceni Altri barbari Non meno feroci Eransi già Fortificati Alle due Estremità D'Italia Avevano Costoro Dall'827 All'851 Tolta Ai greci La Sicilia Erano Di là passati Nel regno Di Napoli Ov'eransi stabiliti Dopo l'839 E verso i tempi In cui Berengario Salì sul trono Avevano occupato Altre terre Dei latini E procuratisi Nuovi asili Avevano In particolare Fortificato Un castello O accampamento Sul Garigliano Di dove Facevano frequenti Scorrerie Nella terra Di lavoro E nella campagna Di Roma Fino alle porte Di questa antica Capitale Del mondo Altri saraceni Di diversa setta Saccheggiavano Il Piemonte Una barca Di corsari Musulmani Sortiti Dalla Spagna Aveva fatto Naufragio A Frassinetto Presso L'inizia Sulle frontiere Della Liguria E della Provenza Questa barca Se crediamo Allo storico Luit Prando Era montata Da soli 20 soldati Che invece Di scoraggiarsi Approfittando Delle scoscese Rupi Su cui erano Stati gettati Dalla Borrasca Vi si fortificarono Le prime trincee Non furono Che siepi Di spine Ma trovarono Questo loro asilo Abbastanza sicuro Per farlo centro Delle nuove piraterie Sulle coste E villaggi vicini I pirati Della loro nazione Avvertiti Dai segni esposti Popolarono Bentosto Il nuovo stabilimento In modo che Osarono Di avanzarsi Fino alle pianure Del Piemonte Saccheggiando Acqui E traversando Una volta Il monte San Bernardo Si impadronirono Della città Di San Maurizio Nel Vallese I saraceni E gli ungari Tenevano Lo stesso modo Di fare la guerra Sia gli uni Che gli altri Non avevano Che cavallerie leggere Che batteva Il paese A piccoli squadroni Senza tentare conquiste E senza occuparsi E senza occuparsi mai Di difendersi Alle spalle O di rassicurarsi La comunicazione Col grosso Dell'armata Non si prendevano Maggior pensiere Dei viveri E dei foraggi Di cui provvedevansi Ovunque Con la violenza La rapidità Della marcia Dava loro Infinito vantaggio Sulla cavalleria pesante Dei gentiluomini E sulle milizie A piedi Delle città E siccome Non cercavano Di combattere Ma di rubare Evitavano Possibilmente Di scontrarsi Con i nemici Non avendo altra patria Che il piccolo Loro accampamento Invece di ritirarsi In faccia A forze superiori Avanzavano Il nemico In velocità E si portavano Sul di dietro A saccheggiare Le province Che avrebbe Dovuto coprire Nei re Nei grandi feudatari Avevano perduto Un palmo Dei loro stati Ma in mezzo Ai loro domini Un nemico Che non potevano Mai raggiungere Saccheggiava Quando uno E quando l'altra Tutte le loro Province Gli Ungeri Spinsero talvolta Le loro scorrerie Fino a Capua E fino a Dothranto Talche scontraronsi Talvolta Con i Saraceni Frattanto Questi piccoli nomadi Dividevansi L'Italia Desolando I premi Tutto il paese Nord del Tevere Gli altri Tutte le contrade A mezzodì Di questo fiume Le guerre Degli Ungeri E dei Saraceni Influirono Immediatamente Sulla libertà Delle città Prima di queste incursioni Erano in Italia Quasi tutte aperte E senza difesa Non prevedevano Veruna parte Nel governo Né avevano milizie Ed i borghigiani Godevano di troppo Scarsa considerazione Perché potessero Credere davvero Una patria Ma quando furono ridotti A doversi difendere Con le proprie forze Contro un assassino Che stendevasi A tutta la contrada Senza che alcuna armata Alcuna armata Alcun ordine pubblico Pensansi a repremerselo Trovandosi abbandonati Innalzarono a principio Le mura Poi formarono le milizie Ed in seguito Le magistrature Le inferiori classi Del popolo Furono ancoresse Chiamate a parte Della milizia Del governo Ed allora Acquistarono Quella energia Di carattere Che doveva farli Tra poco Cittadini Peraltro I popoli nomodi Non influirono Che con le loro ostilità A formare Il carattere Degli italiani Non mai con l'unione Loro O con l'esempio Gli ungari Che venivano creduti Più rassomiglianti Alle fiere Che agli uomini Ispiravano Troppo orrore E spavento Perché alcunio Pensasse Ed imitarli O ardisse Di legarsi In amicizia Dall'altra parte I saraceni Colonia militare Dei maori d'africa Non si rassomigliavano In vero modo Ai sudditi Civilizzati Dei califi Coloro che desolarono Le campagne d'Italia Erano il reifiuto Della nazione Non conoscevano Che l'arte della guerra O per dir meglio Dell'assassinio Ed i loro costumi Erano ancora più lontani Dalla civiltà orientale Che dai costumi Dei cristiani Che essi attaccavano Dopo due secoli Di scuola di Salerno Il commercio Con il levante Dei pisani Dei genovesi E dei veneziani E le crociate Procurano agli italiani E dalla loro letteratura Una leggera Tinta eroientale Ma non fu Che a questa più recente epoca Che si manifestò Il gusto arabo Le bande erranti Degli ismailiti Non vedbero alcuna parte Nulla avevano essi Di romanzesco O di religioso Nulla che potesse Lasciare profonde tracce Nello spirito Dei popoli Il regno di Berengario Il regno di Berengario Qui doveva immediatamente Tenere indietro Una rivoluzione Fu il più alto Periodo Della disorganizzazione Dell'ordine sociale Pure questo principe Non era né di talenti Sproveduto Né senza virtù Benché avesse più volte Comperata la pace Con l'oro Aveva altresì Spesse volte Saputo conquistarla Con le armi Le sue imprese Contro gli Ungari E di Saraceni Benché d'ordinario Infelice Sono una prova Dei suoi talenti militari E del suo coraggio Come della niuna Disciplina Delle sue truppe I feudatari Che prodigavano I loro sovrani Il titolo di tiranno Lo trovarono Meno dei suoi rivali Colpevole Tra questi Il solo Luigi Conte O duca di Provenza Fu da lui Crudelmente trattato Per delitto di fellonia In altre occasioni Diede frequenti Prove di clemenza E di generosa fiducia Verso i suoi nemici Ed un tratto Di eroismo Gli costò la vita Berengario Aveva felicemente Terminata Una lunga guerra civile E per la prima volta La pace regnava Nei suoi stati Guido Figliuolo Da Delberto Marchese di Toscana Un altro Delberto Marchese di Ivrea Lamberto Arcivescovo di Milano Olderico Conte del Palazzo E Maggiordomo del Re Gilberto Potente Conte Non sappiamo Di quali stati Tutti Da Berengario Colmati di benefici E che erano a lui Debitori Del rango Della sede Che occupavano O del perdono Dei loro diritti Congiurarono Contro la sua vita Offrirono La sua corona A Rodolfo Re della Borgogna Transuriana E lo invitarono A scendere in Italia Berengario Informato Della cospirazione Credette Di disarmare Coi benefici I suoi nemici Guido Duca di Toscana E Bertha Sua madre Caduti Poc'anzi In suo potere Ebbero tosto La libertà Adelberto E Gilberto Furono fatti Prigionieri Da una banda Di Ungari Assoldati Da Berengario Il primo Seppe deludere L'altro In vigilanza E fuggì Ma l'altro Dovette la propria Salvezza Soltanto Alla clemenza Del re Berengario Marciò in seguito Contro Rodolfo E lo vinse Ma reso Dalla vittoria Meno cauto Fu colto In un'imboscata Ed interamente Sconfitto Allora Berengario Fu costretto A ritiarsi In Verona Ov'erasi Più volte Rifugiato Prima Li inseguirono I congiurati E persuasero Certo Flamberto Nobile Veronese Cui L'imperatore Aveva tenuto In figlio A battesimo Ad assassinarlo Nebbe E sentore a tempo E chiamato innanzi a sé Quel signore Gli ricordò Il proprio affetto I benefici accordategli L'enormità Del delitto E lo scarso vantaggio Che doveva ripromettersene Quindi Presa in mano Una coppa d'oro Questa coppa Di segli Sia tra di noi Il pegno Dell'oblio Del vostro fallo E del vostro ritorno Alla virtù Prendetela E risovvenitevi Che il vostro imperatore È il padrino Di vostro figlio La stessa notte Per mostrare Ad essere superiore Ad ogni sospetto Invece di reinserarsi Nel suo palazzo Che era fortificato Andò a dormire Senza guardie In una casetta Posta in mezzo Dei giardini La mattina Susseguente Quando Berengario Portavasi alla chiesa Gli si fece incontro Flamberto Con alcuni uomini armati Fingendo di volerlo Abbracciare E lo pugnalò Vilmente L'istoria Non ci fece Conoscere le cagioni Di così feroce odio E di tanta ingratitudine Solamente ci informa Che il primo E forse il più grande Degli imperatori italiani Non rimase Lungo tempo invendicato Milone Conte di Verona Accorse in suo aiuto Troppo tardi Per difenderlo Abbastanza tempo Per tagliare a pezzi I suoi assassini Né i talenti Né le virtù Di un sovrano Potevano In questo sventurato secolo Contribuire Efficacemente Alla prosperità Dello stato L'abitudine All'insubordinazione Il monarca Senza mezzi Di repressione I vassalli Deboli contro i nemici E forti Contro il proprio re Il corpo sociale In dissoluzione Tutto Era disordine E confusione La perfidia E la violenza Avrebbero potuto Mantenere un tiranno Su quel trono Da cui doveva Accadere un errore Forse un tiranno Era allora necessario Alla nazione italiana Per farle sentire Il bisogno Di una costituzione Libera La debolezza E l'insufficienza Del potere Cui era soggetta Facevanle desiderare Un governo Fermo e vigoroso Che la sollevasse Dall'anarchia Ella conosceva I mali presenti Dell'anarchia E non quelli Del governo Che desiderava Talché Non potendo paragonare Gli uni agli altri Non si accorgeva Che ad uguali distanza Dal dispotismo E dalla licenza Doveva chiedere La libertà Due anni Dopo la morte Di Berengario Si vide montare Sul tono Dei Lombardi Un uomo Che ridusse La più umiliante E sommissione Quegli altri Rifeudatari Già rivali Del suo predecessore E si sostituì Alla debolezza Delle leggi La più sfrontata Tirannia Costruirà Ugo Conte o duca Di Provenza Cui gli italiani Destinarono La corona Dopo averla tolta A Rodolfo Di Borgogna Ugo Era fratello Uterino D'Ermengardo Marchese Di Ivrea E di Lamberto Marchese Di Toscana Egli non ebbe più I rivali Dei suoi predecessori Nei duchi Di Spoleto E del Friuli Le di cui famiglie Eran si estinte O erano state Spogliate Dei loro feudi Nel tempo stesso Che perdettero La corona I nobili inferiori Di cui sapeva Mantenere viva Le vicendevole Gelosia Onde l'uno Dopo l'altro Isolatamente opprimerli Non potevano Fare argine Alla sua ambizione Vero è che Ugo cercò In vano Come vedremo In un altro capitolo Di guadagnarsi Un appoggio in Roma Sposando la famosa Marozia Che ne era l'arbitra Ma la sua politica Fu coronata Da un più grande Successo in Lombardia Dirigendo costantemente I suoi attacchi Contro le più distinte Famiglie dei suoi stati Sacrificò L'uno dopo l'altro Senza pietà Tutti i grandi Che potevano Dargli sospetto Non perdonando Neppure A coloro Che lo avevano Fatto re Come suo fratello Lamberto Marchese di Toscana E suo nipote Anscaro Figliuolo D'Ermengardo Marchese di Spoleto E di Camerino Non risparmiava Nemmeno i suoi clienti Che bentosto Trovava troppo potenti Per vivere sotto di lui E gli spogliava Poco dopo Averli arricchiti Nei vescovi Erano trattati Meglio dei duchi Cacciandosi Dalle loro sedi Coloro che Non sapeva Guadagnarsi La sua confidenza E sostituendo loro Borgognoni E provenzali Che non avendo Che il suo appoggio Erano necessariamente Da lui solo Dipendenti Molti suoi bastardi Furono inoltre Innalzati Alle prime dignità Della chiesa O provveduti Di entrate ecclesiastiche Come di abbazie E le sue amanti Insomma Il patrimonio ecclesiastico Era in sua mano L'oggetto Di uno scandaloso Commercio Che gli fruttava Immense ricchezze Mentre i grandi Ed il clero Erano ridotti A un così grande Avvilimento I signori I conti I comandanti Delle città Non dovevano Sperare Di essere Più dolcemente Trattati Il diritto Di successione Nei feudi Come che non si appoggiasse Ad una legge Dell'impero Era però Sanzionato Dall'uso Di due secoli Molti feudatari Del regno di Ugo Erano stati investiti Dei loro feudi Sotto il regno Di Carlo Magno Ed anche sotto Quella dei re Lombardi Rimontando I diretti D'Italuno Fino all'epoca Dello stabilimento Della nazione lombarda In Italia Ugo non ebbe Verun riguardo A questo tacito Diretto Che a dire vero Era contraddetto Dalle formule Legali di investitura E si arrogò La facoltà Di dare E togliere I feudi Non solamente Dopo la morte Del beneficiato Ma anche In vita Il solo ordine Della nazione Che forse Non si lagnava Era il popolo Non perché Meno maltrattato Dagli altri Ma perché Le sue sofferenze Reputavansi cose Di così leggera importanza Che gli storici Non credettero Prezzo dell'opera Il farne memoria Ci dicono soltanto Come essendosi Ugo Impadronito Di Frassinetto Invece Di cacciare Dai suoi stati Saraceni Che occupavano Questa fortezza Li trapiantò Nella marca Trevigiana Onde Chiudessero Il passaggio Ai tedeschi E che Per farseli Più affezionati Si astenne Dal reprimere Le loro violenze E saccheggi Sotto il licenzioso Regno di Berengario E dei suoi predecessori La libertà A cui pretendevano Gli italiani Non trovavasi Garantita Da un potere nazionale Indipendente Da quello dei re Il trono Era il solo Centro dell'autorità Cui peraltro I popoli Non erano attaccati Davvero un legame Ne era Per la forza Della loro costituzione Che i lombardi Fossero liberi Ma bensì Per la sua Debolezza Da che il tirano Ebbe successivamente Abbattuti I grandi feudatari Ed innalzato Le sue creature Ai più ricchi benefici Della chiesa La nazione Si trovò schiava Senza combattere Per mancanza D'organizzazione politica E non già di carattere Non aveva In sé medesima Sufficienti appoggio Per rialzarsi Era le necessarie Un'impulsione straniera Ed un soccorso straniero Per abbattere L'usurpatore Tale soccorso Fu dato dalla Germania A quest'epoca Per la prima volta Gli interessi Delle due nazioni E delle due monarchie Si frammischiarono E tale unione Portò un re Sassone Sul trono di Lombardia Di quanti feudatari Ebbe l'Italia Un solo di questi tempi Possedeva ancora L'eredità paterna Non per favore Del sovrano Ma per la sua nascita E per l'amore Dei suoi soggetti Era questi Berengario Marchese di Ivrea E nipote Dal lato materno Dell'imperatore Di questo nome La zia di Berengario Armengarda Era sorella di Ugo Dai suoi maneggi Portato sul trono D'Italia Onde per un residuo Di riconoscenza Per sua sorella E per la fresca Giovinezza del Marchese Ugo gli aveva lasciato La vita Ed il governo Di Ivrea Peraltro Da che si accorse Che gli occhi Degli italiani Erano verso di lui Rivolti Comprese che era tempo Di perderlo E tutto dispone Per rapirlo Con la sua sposa E per abbacinarlo Berengario Avvertitone segretamente Fugge con Gilla Sua consorte Cui l'avanzata gravidanza Non impedì Di valicare il San Bernardo Che il tiranno Credeva chiuso Ancora dai ghiacci Ottone il Grande Regnava allora In Germania Il più potente Come il più magnanimo Dei principi Che erano Si divise le spoglie Dell'impero Dei Carlo Vingi Le virtù sembravano Ereditarie Nella sua famiglia Suo avo Ottone Duca di Sassonia Era stato Dalla dieta L'anno 912 Dichiarato re di Germania Ed egli aveva Rifiutato Tale onorificenza Suo padre Enrico I Chiamato l'Uccellatore Aveva otto anni Dopo accettata La medesima dignità Offertagli Dei voti unanimi Dei franchi Dei bavari Dei turingi Dei sassoni Ed egli Ne giustificò La scelta Con un regno Glorioso Per le continue Vittorie Riportate sui danesi Gli slavi E gli ungari Ottone il grande Che montò Sul trono L'anno 937 Proseguiva Prosperamente La guerra Contro i pagani E le sue vittorie Chiudevano Gli ungari La strada Dell'occidente Che aveva Saccheggiato Si lungo tempo Il generoso Monarca Accolse Alla corte Il marchese Di Ivrea Permettendogli Di riunire Presso di lui Gli italiani Malcontenti E senza Soccorrerlo Direttamente Gli permise Di preparare Quanto era necessario Per abbattere Il trono Di Ugo Infatti La rivoluzione Si eseguì Con le sole Armi italiane Perengario Seguito Dalla sua Piccola armata Calò in Lombardia Attraverso La marca Trevigiana Avendogli Facilitato Il passaggio Delle alpi E delle foreste E il malcontento Dei popoli Di mano in mano Che gli s'avanzava Andò Reinforzando Talmente La sua armata Che Ugo Non osò Affrontarla Il marchese Di Ivrea Convocò A Milano Gli stati Del regno Facendogli Arbiti Tra l'antico E il nuovo Monarca Quell'illustre Assemblea Sentì D'aver recuperata L'indipendenza E per conservarla Sforzò si Di stabilire L'equilibrio Dei poteri Tra i due Pretendenti Al trono Riconobbera L'otario Figliuolo Di Ugo E confidò Poi L'intera Amministrazione Del regno A Berengario Non era possibile Che le cose Rimanessero a lungo In tale stato Vi si opponeva La mal soddisfatta Ambizione Di Berengario Il quale Considerando Che l'otario Non aveva Meritato Col di lui Padre L'odio Degli italiani E che Sua consorte Adelaide Era adorata Dai sudditi Aveva giusta Cagione Di temere Che la confidenza Degli italiani Si accrescerebbe Ogni giorno Per l'otario Con suo pregiudizio E Berengario Fu creduto Colpevole D'aver avvelenato Il giovane re Per non rimanere Esposto All'incostanza Del favore popolare Morto l'otario Chiese per suo figliolo La mano Della vedova Adelaide E cercò Ma inutilmente Con le minacce E col trattarla Duramente Di ridurla Al suo volere Egli non S'avvide Che non era più Il tempo Di poter Assicurare Il dominio Con i delitti Avendo egli Col suo esempio Avvertito Gli italiani Che trovavasi Oltre i monti Un vendicatore Dei delitti Dei re lombardi I popoli Avevano veduta Senza interesse L'incoronazione Di Berengario I prelati Sentivano Pietà D'Adelaide I grandi Temevano Un despota Nel re Senza rivali Di comuno Accordo Ebbero ricorso Adottone il grande Supplicando Di liberare L'Italia Da quello stesso re Che erasi Presentato Il grande Ottone Entrò di fatti In Italia L'anno 951 La regina Adelaide Che dal castello Posto sul lago Di Garda In cui era custodita Strettamente Aveva potuto Rifugiarsi Nella fortezza Di Canossa Divenne Sposa D'Ottone E fu dopo morte Ascretta Al ruolo Dei beati Giunto Ottone a Pavia Senza ostacolo Vi fu coronato Re dei Lombardi Ma richiamato In Germania Dopo pochi mesi Dalle guerre civili E dalle invasioni straniere Berengario ne approfittò Per pacificarsi Con un rivale Così forte Egli si presentò In Augusta Ad una dieta Di tedeschi Con suo figliolo Adelberto Che aveva pure Il titolo Di re dei Lombardi E fece omaggio Della sua corona Dottone Che riconobbe Per suo superiore Fece cessione Della marca trevigiana E conciò Del passaggio D'Italia Ad un duca tedesco E sotto la protezione Del re Sassone Regnò ancora Qualche tempo In Lombardia Ma mentre Ottone Ristabiliva La pace In Alemagna E batteva Sull'Ec Gli Ungari In modo che Non furono più In grado Di pensare Né alla Germania Né all'Italia I signori italiani Lo dichiaravano Arbitro Di tutte le controversie Con loro re Avevano essi O credevano D'avere Giusti motivi Di querelarsi Onde Ottone Mosso Dalle loro preghiere E da quelle del Papa Dopo aver loro Mandato in soccorso Uno dei suoi figlioli Del 961 Intraprese egli Medesimo Per la seconda volta La conquista D'Italia Né un ostacolo S'oppose Dalla sua marcia Dopo essere stato Di nuovo Incoronato a Pavia Ricevette in Roma La corona Dell'impero Delle mani Di Papa Giovanni XII E con un lungo assedio Prese infine La fortezza Di San Leo Al conte Di Montefeltro Ove fece Suoi prigionieri Berengario E sua moglie Che mandò Ovan Berga Ove questi illustri Esiliati Terminarono i loro giorni Costruinse il loro figlio Adelberto A rifugirsi Presso i Greci E consumò La riunione Dell'Italia All'impero germanico Veruna Rivoluzione Non ebbe mai Una più notabile Influenza Sul carattere D'una nazione Sulla sua costituzione E sui futuri destini Quanto l'unione Delle corone Di Germania E di Lombardia Ne ebbe Sugli italiani Se i monumenti storici Del decimo E dell'undecimo secolo Bastassero Per ordire Da quest'epoca L'istoria Delle città italiane È dal regno Degli ottoni Che io Vi avrei dato Cominciamento In perciò Che le città Riconobbero Dalla munificenza E dalla politica Di questi principi La loro costituzione Municipale Ed i primi germi Dello spirito Repubblicano Fu l'allontanamento Della corte sovrana Che li abituò All'indipendenza E finalmente Dopo spenta La famiglia Degli ottoni La guerra E tra i principi Che aspiravano Alla corona Addestrarono Le città Alle armi Dando loro Facoltà Di combattere Sotto proprie insegne Forzati Dall'aridità Degli storici Che ne servono Di guida A lasciare Tra l'ombra Questi tempi Troppo Imperfettamente Conosciuti Proseguiremo Nei susseguenti Capitoli Ad indicare Solamente L'influenza Delle grandi Rivoluzioni Della monarchia Sulla costituzione Nazionale Ed i costumi Del popolo Raccoglieremo In seguito Separatamente Le poche notizie Che ne rimangono Intorno Ad alcune repubbliche La di cui libertà Risale ai tempi Di cui abbiamo Ora rapidamente Percorso la storia E non incomincieremo Che col XII secolo Ad analizzare L'interno ordine Delle città Per seguitare Da vicino E con circostanziato Racconto I generosi Loro slanci Verso la libertà